Le funzioni principali sono tre, aiutare le persone con disabilità motoria a bere, alimentarsi e afferrare oggetti nella stanza. Aiuta a prendere le medicine se serve anche un bicchiere d'acqua, ma può anche portare il cibo con una forchetta dal piatto alla bocca. Insomma è stato programmato per raccompiere i piccoli gesti quotidiani, si tratta dell'ultimo robot ideato e progettato dagli studenti dell'ISIS Fermi di Bibbiena. Sicuramente è un grande aiuto perché è una mano extra che per chi non ne ha le possibilità è un grande sostegno. È un braccio elettromeccanico, radiocomandato e programmabile, progettato come supporto per le persone con disabilità motoria. Partendo dall'analisi dell'idea, del problema, su carta, da uno schizzo, per arrivare poi a costruire la struttura meccanica, la circuitazione e tutto il cablaggio. Il braccio è piccolo e leggero, dotato di base radiocomandata e sollevabile. Può infatti raggiungere un'altezza di 162 centimetri che permette di operare in vari luoghi della stanza e raccogliere oggetti. Può essere posizionato anche sul bracciolo di una carrozzina o del letto e controllato attraverso un joystick oppure programmato. C'è il braccio meccanico che è quello principale, poi c'è un bicchiere che è stato realizzato lì dal nostro collaboratore esterno, Vinciarelli, nel suo laboratorio con la stampante 3D. Quindi è stato creato questo attacco per la pinza e quindi la pinza si attacca lì e rende facile l'utilizzo del bicchiere o della forchetta. Al lavoro gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Si parla molto di cooperative learning, learning by doing, problem solving. Ecco, loro hanno affrontato tutte queste competenze perché hanno imparato lavorando, hanno collaborato insieme tra classi diverse e hanno imparato a risolvere i problemi. Ogni anno i ragazzi dell'ISIS Fermi riescono a realizzare nuove invenzioni in grado di aiutare le persone durante le varie attività quotidiane, come ad esempio Tutor 1, il robot che ricordava di prendere le medicine, o Ferdinando che in classe aiutava a mantenere le distanze durante la pandemia. Ed infine il seggiolino Salva Bebé. A me mi appassi una pareccia parte pratica, elettronica, soprattutto la progettazione e risolvere i problemi che affliggono il robot.